Allo spaccio alimentare in via degli Etruschi 2 strada statale 106 a merito portosalvo, frutta e verdura 99 centesimi e tantissimi altri prodotti. Alcuni esempi, passata di pomodoro ottolina 49 centesimi, pasta dorica 59 centesimi, coca cola Fanta e Sprite litri 1,75 euro 1,29 euro, Grana Padano Dopp 89 centesimi letto, fettine di coscia di suino 4,90 euro al chilo, fettine e pette di pollo 5,99 euro al chilo, yogurt cremoso milk 1,69 euro, gelato sigel vari gusti 2,99 euro, cucciolone algida 2,99 euro, caffè Augusta Barbera in grani 4,99 euro, omogenizzati di carne nipio all'1,59 euro, tonno all'olio d'oliva Auriga 1,99 euro, Detersivo lavatrice General 21 lavaggi 1,99 euro, detersivo piatti Nelson 1,00 euro, spaccio alimentare via degli Etruschi 2 strada statale 106 a merito portosalvo.